La politica economica si mobilitino, ma soprattutto si mobilitino assieme tenendo presente due principi guida che sono emersi chiaramente in questi anni, a mio avviso sono ormai patrimonio di una common wisdom del policy making. Mi piacerebbe finalmente pensare che sia chiaro come la settimana di artistica e che sia chiaro come la settimana di artistica e che sia chiaro come la settimana di artistica e che sia chiaro come la settimana di artistica. Non bisogna adottare una prospettiva di lungo periodo, bisogna avere pazienza. La disoccupazione era al 12.2 e all'11.4. Il deficit era al 3.2 e all'11.4 e all'11.4 e all'11.4 e all'11.4. Il bambino più piccolo farà la carriola, l'altro il muratore. Quello che fa la carriola mette le mani sul pavimento e tira le gambe rigide. Il muratore lo solleva per le gambe, come fu solo stango. Il bambino che fa la carriola comincia a camminare sulle mani e quando vuole fermarsi piega le gambe una dopo l'altra e se vi sono abbastanza coppie per fare più carriole si possono fare divertenti cioè per i corsi di garriole. Chiedegli al tuo amico di mettersi a 4 zampe! Chiedegli al tuo amico di mettersi a 4 zampe! Chiedegli al tuo amico di mettersi a 4 zampe! Chiedeglielo a quel tuo cazzo di amico di mettersi a 4 zampe! Ehi amico si metti a 4 zampe! Devi chiedere di rannicchiarsi il più possibile. Tu ti metti dietro di lui, ah beh, ah beh, è buono. e poi tu ti metti dietro di lui e poi appoggi le mani sulla sua sechiena e spetti un salto in alto allarghi le gambe scavalchi il tuo amico che ti rimane alle spalle perdente e poi a due volte ti radicchi e scavalchi soltanto le riforme quindi richiedono tempo richiedono la pazienza del policy maker le riforme funzionano meglio se vengono introdotte in modo sinergico la riforma del mercato del lavoro può essere realizzata per chissà che cosa c'è la campagna referentaria può essere applicata a ov oh 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 Grazie a tutti